Un conto è discutere questi problemi all'interno degli uffici, un conto è fare una visita, rendersi conto di persona, della condizione. Vuol dire che c'è stato grande consenso da parte delle famiglie che abitano in quel quartiere, per me è stato un motivo di grande soddisfazione anche perché in occasione di quella puntata ero stata accusata, non giustamente, io penso perché comunque ero parlamentare eletta al sud proprio quasi a nome di tutta la classe politica di essere assente e distante dai problemi dei cittadini, credo che abbiamo dimostrato che un atteggiamento è così, qualunquista non paga, però in quel caso forse è servito anche a sollecitare una soluzione che era giusta, doverosa. Che fai? Scusi Ministro, quanto conta il fotovoltaico e l'eolico nel suo programma? Conta molto, conta molto.